Mi presti il tuo libro, per favore? Non hai il tuo libro? No, il mio libro è a casa mia. Puoi prestarmi la tua penna rossa? Non hai la penna rossa? No, è a casa mia. Questi sono i tuoi folli? Posso prenderne uno? Mi dai fastidio. Dove sono le tue cose? Le mie cose sono a casa mia. Ho lasciato la mia borsa a casa. Ho lasciato la mia borsa. Ho lasciato la mia borsa.